raga vi sto portando in un parco giochi nel bosco non ci credete adesso vediamo quasi va di qua c'è un questo piccolo attraversiamo la strada siamo tra l'altro molto vicini a un posto dove siamo andati l'altra volta c'è questo che è la cabino via la vecchia cabino via quella che funziona adesso funziona soltanto d'inverno perché d'estate funziona solo quella di 1400 e insomma molto bella anche quello comunque io non le prendo perché però molto bella vediamo adesso le indicazioni parco giochi qui c'è un parcheggio praticamente a pagamento che non usa praticamente nessuno ma il motivo è molto semplice non ce n'è bisogno perché invece d'inverno lo utilizzano tutti siamo vicini guardate effetti siamo presente presente parcheggio bosco bosco qui una volta c'era un campo da tennis che veniva utilizzato pochissimo però io che ho qualche anno di esperienza in questi posti me lo ricordo molto bene e siamo ormai nel parco giochi stiamo per attraversare l'ultimo pezzettino ed eccoci qua siamo nel parco giochi guardate vi faccio fare il giro aspettate che metto in pausa aspettate che cambio telecamera così vi potete godere di più la cosa eccoci dunque vedete guardate qua siamo in un parco giochi completamente nel bosco adesso camminiamo seguiamo il sentiero seguiamo il sentiero che ci porta anche a salire ovviamente sempre perfetto vedete molto bello ci sono panchine c'è tutto è proprio un parco giochi proprio un parco giochi perfetto però è praticamente letteralmente nel post nel bosco perché questo è un bosco e vi assicuro che ho trovato anche dei funghi lì ci sono le altalene con le cose qua però volevo salire subito volevo farvi salire un secondo vedete qua che belle quegli scivoli che belli queste cose io vi faccio salire proprio l'ultimo facciamo l'ultimo step e di qui poi si entra ovviamente nel pieno bosco quello proprio c'è un bel torrentino vedete con l'acqua e vedete che c'è anche delle bacche insomma c'è un po di tutto questo proprio bel fiumiciatolino piccolino senza e qua poi diventa come volete vedere bosco pieno ma in realtà è già bosco qua un po messo a posto per fare in modo che i bambini possano venire qua a giocare ma è a tutti gli effetti bosco cioè io ogni volta che vengo qua voi non ci crederete ma io guardo sempre perché ogni volta rischi di trovare qualcosa qua a livello anche di funghi e di natura no guardate qua proprio bosco più pieno di così non credo che possa essere bosco no nel senso guardate che roba qui siamo proprio in bosco non mi vado su qua perché in questo momento non ho le scarpe adatte quindi ho paura di veramente di farmi male quindi scendo da qua vedete guardate e dunque siamo praticamente arrivati si può scendere o di qua che dove siamo io vi faccio passare di qua così facciamo un altro pezzettino lungo e soprattutto verso dove fare vedere dove fin dove arriva al bosco e faccio scendere dall'altra parte ecco vedete questa è un fungo ad esempio non è buono però è un fungo anche questo questi sono dei funghi a palla non buoni quindi non mangiateli perché si era nero ma sono ma sono comunque funghi guardate qua vedi questi sono i funghi che dicevamo prima non sono buoni perché sono sclerodonti sono mi sfugge il nome come si chiamano ma sono neri dentro quindi assolutamente non sono buoni anche qua guardate pieno e vedete insomma che siamo quasi arrivati e adesso facciamo la discesa scesa un po ripida ma dovrei riuscire a farla senza particolari problemi anche perché c'è il coso quindi ragazzi adesso mi giro la telecamera buona buono sono fatto girato la telecamera per evitare brutte figure ok il parco giochi rimane di là avete visto dunque il parco giochi nel bosco a marileva 900 come sapete un posto che io invito sempre tutti a vedere avete la possibilità insomma di anche di andare in un parco giochi all'interno del bosco proprio quindi posti belli ciao a tutti